Ciao investitore e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Filippo Angeloni, sono un imprenditore finanziario oltre che un investitore professionista che si è arricchito anche grazie alle criptovalute. Anche perché sono stato il primo in assoluto qui da noi in Italia, con un minimo livello di conoscenza finanziaria, ad aver sloganato Bitcoin e le criptovalute come nuove asset class. Quindi ho riconosciuto valore in Bitcoin e nelle criptovalute, ma per lo più in realtà in Bitcoin e ho affibbiato un po' la visione di nuovi asset da investimento. Quindi è tutto certificato, sì prima di me sono entrate altre persone su Bitcoin, è chiaro, però erano per lo più nerd, comunque un po' anarchici, un po' punk cripto anarchici e non avevano conoscenze nel campo finanziario. Quindi io non dico che sono stato il primo ad essere arrivato su Bitcoin, ma sono stato il primo ad averli sloganati con un minimo di conoscenza finanziaria. Detto questo, nel mio video precedente ti ho parlato velatamente della tecnica e della strategia del free roll. Sono arrivati tantissimi commenti, sono arrivati tantissimi email, quindi in questo video parliamo in maniera un po' più approfondita di questa tecnica, la tecnica del free roll. Vediamo da dove deriva questa tecnica, perché in realtà non deriva dal mondo degli investimenti, deriva da un altro mondo che dopo vedremo. Vedremo in cosa si sostanzia effettivamente questa tecnica, quando andare ad utilizzarla, quando non utilizzarla, quali sono effettivamente i rischi o meno di questa tecnica. E poi vedremo un caso studio reale di uno dei miei corsisti che è andato ad effettuare questa tecnica sul mondo del Bitcoin e sul mondo delle criptovalute. Quindi preferisce rimanere anonimo, comunque ci dà un po' la sua testimonianza e ci permette di vedere una schermata con prezzi di acquisto di varie criptovalute, acquisti avvenuti nel 2017 e prezzi di rivendita nel inizio comunque del 2021. Quindi vedremo proprio prezzi di acquisto, prezzi di rivendita, vedremo proprio effettivamente, come nessuno ha mai fatto vedere, come si utilizza questa tecnica qui. Ora, detto questo, da dove deriva intanto la tecnica del free roll e perché è stata importata qua da noi nel campo degli investimenti? La tecnica del free roll non deriva dal mondo degli investimenti. Ci sono state delle persone, non sono stato io questa volta, alzo le mani, ma ci sono state delle persone con conoscenze nel campo e che derivavano dal campo del gioco d'azzardo, ad aver traslato, ad aver importato questa tecnica, che deriva appunto dal mondo del gioco d'azzardo, nel mondo degli investimenti. Questa tecnica, quindi, si deriva dal mondo del gioco d'azzardo, deriva per lo più dal poker. So bene che il poker può essere visto anche a livello professionale, può essere fatto a livello professionale, a livello pro, però non stiamo qui a essere puntigliosi, ok? Deriva dal mondo del gioco d'azzardo, ci siamo capiti. E nel poker, per quello che so, perché io non gioco a poker, e per fortuna nel senso sarebbe uno di quei giochi dove probabilmente andrei fino in fondo e prenderei sicuramente bastonate all'inizio, quindi è bene non iniziare nel mio caso. Il free roll, magari fammelo sapere anche qua sotto nei commenti, ma mi sono informato, ho visto che più o meno è questo. Il free roll nel poker sono dei tornei, delle partite che puoi giocare gratuitamente e se vinci, e arrivi in finale, quindi vinci, vinci soldi reali, ok? Poi vincere ad esempio 500 euro, quindi non serve avere un capitale per partire, non serve pagare un, tra virgolette, biglietto, quota di partecipazione, giochi gratuitamente, ci sarà sicuramente tantissima gente, magari anche tanti improvvisati, se arrivi in finale, però vinci del cash reali, quindi vinci ad esempio 500 euro, 1000 euro e così via. Quindi questa tecnica nel mondo del gioco d'azzardo, nel mondo del poker, è vista come una tecnica, o comunque come un gioco a rischio zero, dove puoi partecipare senza effettivamente investire nulla. Quindi se va male, se perdi, ok? Partite, non succede nulla, hai perso magari il tempo, magari ti sei divertito, magari no, però non perdi soldi, ok? L'idea è questa. Se vinci, vinci soldi reali. Quindi ci sono state delle persone con un background in questo mondo ad aver importato questa tecnica nel campo degli investimenti. E dov'è che l'hanno importata? L'hanno importata per lo più nel mondo bitcoin e delle criptovalute, ma, badate bene, e non dite di no, è stata importata anche nel mondo azionario. Perché questi due asset? Perché sono i due asset che tendenzialmente tendono a crescere di più nel corso del tempo, comunque in maniera, in archi di tempo, piuttosto brevi, soprattutto bitcoin e le cripto, c'è da dire in confronto all'azionario. Non è stata importata questa tecnica sull'oro, sulle obbligazioni, sulle materie prime, anche perché questa tecnica la utilizzi dopo che hai raddoppiato il tuo capitale. È abbastanza difficile, o comunque ci vuole tempo, raddoppiare il capitale sulle obbligazioni, specialmente le obbligazioni a breve scadenza, è difficile raddoppiare lì il capitale. Quindi non è che vanno a utilizzare questa tecnica lì, la utilizzano su bitcoin e criptovalute, dove quando va bene è facile raddoppiare il capitale, è facile in breve tempo intendo, e comunque nell'azionario. Quindi sono i due asset che hanno più volatilità e dove è più facile andare poi ad applicare questa tecnica. Quindi viene utilizzata in questi due asset questa tecnica. In cosa si sostanza? Ti faccio un esempio, intanto molto semplice per farti capire. Sono prezzi e dati che attualmente non sono più validi, adesso bitcoin è un prezzo più alto rispetto all'esempio che ti farò, però è per capire, per facilitare questo esempio. Come funziona questa tecnica? Vai a comprare 10.000 euro in valore di bitcoin, quando il prezzo di bitcoin è 10.000 euro, quindi ti compri un bitcoin. Aspetti sei mesi, ad esempio, bitcoin passa da 10.000 euro a bitcoin, arriva a 20.000 euro. Tu a quel punto puoi utilizzare, a quel momento in poi, la tecnica del free roll. Cioè puoi dire, porto a casa ciò che ho investito, quindi vado a richiedere il prelievo di 10.000 euro, tramite magari un exchange, vendo quindi 0.5 bitcoin, e poi da quel momento in poi sono a rischio zero, faccio un investimento a rischio zero. Quindi da quel momento in poi ciò che succede ai miei restanti 0.5 bitcoin, a me non interessa più di tanto perché ormai ciò che ho investito l'ho prelevato. Questo è il succo del discorso. Ora, in realtà ci sono dei rischi pure qua a utilizzare questa tecnica, e te ne voglio parlare in questo video. C'è un tanto il rischio che quando vai a richiedere il prelievo, cioè vendi 0.5 bitcoin, chiedi il prelievo, tu stai traslando il tuo patrimonio, le tue disponibilità, da bitcoin, che è un asset, che è un asset digitale, come li chiamo io, a un altro asset, in questo caso euro, che è comunque un asset, è la liquidità. È un asset con rendimento negativo nel lungo periodo, ok, però è sempre un asset, la liquidità. Può essere trash, va bene, ok, però è considerato comunque sia un asset. Quindi tu stai spostando delle liquidità, delle somme, comunque delle disponibilità, da un asset a un altro, ok? Si chiama ribilanciamento, in realtà, dopo ne parleremo. Comunque, metti al sicuro, secondo te, questa somma. In realtà il cash, qui prendi appunti, stai molto attento, il cash non è privo di rischio, ok? Neanche le valute fiat, un po' più robuste, un po' più solide, come l'euro, come il dollaro, non sono prive di rischio. Nel lungo periodo, ok, c'è inflazione, lo sappiamo, entrambi perdono di potere, ok? D'acquisto non c'è nulla da ridire qua, però anche nel breve, persino le valute fiat più robuste, più forti, come l'euro e il dollaro, possono subire comunque dei danni, o comunque situazioni non piacevoli. Specialmente poi valute fiat più deboli, cioè pensa a fare questa strategia, se sei magari venezuelano e vivi in Venezuela. Utilizza questa strategia con il Bolivar, è una strategia che non ti protegge dal rischio, anzi, ti aumenti il rischio in maniera stratosferica, ok? Questo è chiaro. Quindi tu stai traslando parte del tuo patrimonio da un asset a un altro, dipende che cos'è quest'asset, la liquidità. Quest'asset è comunque un asset non privo di rischio, ok? Quindi non stai facendo un'operazione a rischio zero, a free risk. Diverso il caso se tu prelevi 10.000 euro e poi utilizzi subito questi 10.000 euro. Io nel caso della mia ragazza, facevo nel video precedente, sarebbe un po' quello l'intento, nel senso prelevi 10.000 euro e poi li utilizzi, la utilizza lei, per qualcosa che gli serve. Quindi non ci pensi più. Questo può essere un modo per azzerare effettivamente il rischio, questo primo rischio, se vai a utilizzare subito quell'importo. Altrimenti, questo è un primo rischio che c'è, nel senso, tu stai mettendo dei capitali in un asset, stai cambiando asset allocation, stai mettendo capitali nella liquidità, la liquidità non è un investimento privo di rischio, quindi attenzione, pure qua il rischio in realtà c'è. Poi ci sono ancora altri due rischi, secondo me. Cioè, vai a effettuare questa strategia, ti ritrovi 0.5 bitcoin. È vero che a te non interessa più di tanto cosa succede, però anche qua, se bitcoin in questo caso si azzera, tu hai perso la possibilità di rivenderlo in profitto, ok? Potevi venderlo magari 10.000 euro, non l'hai fatto, anche quella restante parte, e ti si è azzerato il capitale. Anche questo in realtà è un rischio. C'è un ulteriore rischio, cioè se bitcoin arriva a un milione, tu ne hai venduto 0.5, 10.000, ti sei perso una crescita incredibile, no? Magari sì, arrivi ad avere mezzo milione, però potevi avere, anche questo è un rischio, potevi avere un milione. Quindi in realtà, un po' il rischio c'è sempre qua. Ora, questa strategia qua, free roll, non è nulla di nuovo, non è così rivoluzionaria come vogliono far credere. Anche perché questa strategia c'è in maniera indiretta, se vogliamo, nel ribilanciamento di portafoglio. Ti ho detto che il free roll è far passare del patrimonio da un asset ad un altro. Questo è ciò che avviene con i ribilanciamenti di portafoglio. man mano che il capitale sale, nel corso degli anni, solitamente in sette anni dovresti provare a raddoppiare il tuo capitale, man mano che il capitale magari cresce, o comunque una volta all'anno, solitamente si effettuano i ribilanciamenti. Quindi vai a ridurre magari il rischio che c'è nell'azionario o nelle criptovalute, ti porti a casa il profitto, lo riversi in altri asset. Quali sono questi altri asset? Può essere la liquidità, ma con i ribilanciamenti solitamente non è quasi male la liquidità o solo la liquidità. Magari ribilanci ciò che hai guadagnato in bitcoin e lo metti nell'azionario, lo metti magari nell'obbligazionario che ha performato male, lo metti nell'oro che ha performato male e così via. Quindi questa tecnica non è nulla di fantascientifico. In realtà esiste già, esisteva già nel mondo degli investimenti, si chiama un po' ribilanciamento, però indirettamente, ci siamo intesi. Ora, qua su bitcoin ci sono determinate persone, soprattutto come utenti bitcoin avanzati, che non andranno mai e poi mai a utilizzare questa strategia. Perché più vai avanti con la tua conoscenza su bitcoin, più è difficile per te utilizzare la tecnica del free roll e traslare ciò che hai in bitcoin in euro, in valute fiat. È molto molto difficile. semmai anche persone esperte in bitcoin utilizzano questa tecnica, forse sì, però lo mettono in altri asset, cioè non in asset che è la liquidità come euro, ma lo vanno a mettere magari in oro, lo vanno a mettere in argento, lo vanno a mettere in azionario e così via. Quindi una persona già esperta in questo mondo utilizza la tecnica del free roll così, quindi non con l'incash, ma utilizza la tecnica del free roll con un ribilanciamento di portafoglio. Ora, quando utilizzare questa tecnica e quando no? Quando provare a fare questa tecnica? Questa tecnica, non dico del ribilanciamento, ma la tecnica del free roll pura, come vogliono far intendere queste persone che la utilizzano, è il caso, magari, cioè, ci si può provare quando bitcoin è in un mercato orso, quando magari tutti si spogliano dei propri bitcoin, nessuno vuole comprare bitcoin perché bitcoin magari è visto come qualcosa di criminale, qualcosa che è destinato a morire, è destinato ad andare a zero, quello là in realtà è il momento dove ci si può pure provare un po' a forzare la mano e poi in futuro utilizzare la tecnica del free roll, cioè investi magari quando bitcoin era 3000 euro, te ne compri tipo 10 o così, o 5, quando raddoppi già ti togli ciò che hai messo e lo fai lasciare, come ha detto loro in free roll. Quando non utilizzare questa tecnica, ad esempio, in questo momento qua dove ci troviamo, dove comunque c'è un pochino di euforia, magari ancora non è la vera euforia come è stata nel 2017, però qua è già più rischioso effettuare questa tecnica, ok? Ci siamo capiti quello che intendo. Adesso andiamo a PC che vediamo proprio questo mio corsista come ha utilizzato la tecnica del free roll. Come puoi vedere il mio corsista il 14 novembre 2017 ha depositato 2500 euro presso Bitstamp che è un exchange di criptovalute e vediamo cosa si era andato a comprare. Si era comprato intanto 0.197 all'incirca bitcoin quando il prezzo del bitcoin era 5.676 euro circa per bitcoin. Si è comprato all'incirca 11 litecoin quando il prezzo di un litecoin era 52 euro circa. Si era comprato anche per lo più diciamo all'incirca 2000 XRP quindi Ripple il prezzo di Ripple in quel momento era 0.176 poi si era comprato anche 1.31 ethereum quando il prezzo di un ethereum era 285 euro circa. Questi sono stati tutti i suoi acquisti presso questo exchange ha fatto solo questi acquisti. C'è da dire dopo vedremo anche le vendite c'è da dire che non era proprio un momento buonissimo di acquisto perché bitcoin saliva già da parecchio anche le cripto stavano salendo già da molto però aveva beccato questo ingresso ed era entrato quindi il 14 novembre quando vedremo le vendite mancherà la vendita di XRP che sul mio consiglio proprio da amico quando ho venduto anch'io XRP anche questo corsista ha venduto XRP ed entrambi quindi abbiamo beccato il massimo storico di XRP che è all'incirca 3-4 dollari per Ripple lui non ha questa transazione su Bitstamp quindi non risulterà questa transazione perché l'ha fatta su un altro exchange e non vuole far vedere per ragione di privacy le sue operazioni sull'altro exchange cosa ci ha fatto comunque con questi XRP io l'ho visti quindi garantisco che è vero si è andato praticamente a comprare Bitcoin ed è arrivato in questo momento a 0.4 Bitcoin all'incirca quindi questa persona questo corsista a 0.4 Bitcoin quindi ha preso un bel profitto su XRP adesso non ha più nessun XRP e aveva quindi 0.4 Bitcoin ancora adesso a 0.4 Bitcoin aveva tutti Litecoin e tutti ancora gli Ethereum adesso passiamo alle vendite queste sono le vendite che ha effettuato il 29 dicembre 2020 e il gennaio 4 2021 proprio per andare secondo lui in free roll quindi ha utilizzato questa strategia free roll però dopo vi dico anche cosa ci ha fatto con ciò che ha prelevato allora ha intanto venduto tutti i suoi Litecoin quindi gli 11,7 Litecoin li ha venduti a 104 euro l'uno quindi ha raddoppiato lì in realtà e ha voluto apportare ha voluto prendere totalmente profitto e ha prelevato gli 1226 euro ne aveva investiti vi ricordo 2005 poi ha anche venduto gli 1,31 Ethereum per un controvalore di 765 euro ad Ethereum e si è portato a casa anche qua ha prelevato 995 euro quindi è arrivato in sostanza in questo momento a diciamo quasi 2200 euro ok di prelievo mancano ancora 200 e qualcosa euro per arrivare in free roll li ha venduti in realtà piccolissimi parti dei suoi bitcoin delle sue somme in bitcoin li ha venduti presso un altro exchange e quindi si è portato il free roll quindi i 2500 che ha depositato in realtà li ha già ripresi questa persona poi ha preso questi 2500 euro non li ha lasciati in cash li è andati a investire per lo più al 50% cioè per lo più al 50% in oro e al 50% in azionario diversificato quindi azionario globale quindi questa persona in realtà d'ora in poi è se vogliamo in free roll nel senso è vero che ci sono i rischi però ha fatto un ribilanciamento e ha tolto ciò che aveva messo nelle cripto quindi d'ora in poi per lui si espone solo al rischio di un mancato guadagno o di un mancato prelievo in tempo nel caso bitcoin e le cripto si vadano poi ad azzerare ok con questo è tutto fammi sapere cosa ne pensi di questa tecnica la tecnica del free roll se la vuoi utilizzare o meno o se vuoi appunto in futuro effettuare la tecnica del free roll però con la variante del ribilanciamento ok quindi non tutto in liquidità ma magari andare a ribilanciare in vari asset con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao